Dai controlli effettuati dai vigili del fuoco non risultano tracce di salazioni nocive provenienti dal bagno della scuola De Amicis di Modicalta, tanto panico ma nulla di pericoloso. Ennesimo furto avvenuto con modalità similari a quello che si è registrato a Chiara Montegolfi è stato messo a segno ai danni di un negozio di Pozzallo. L'ASCOM chiede misure di sicurezza maggiori. Alcuni dipendenti del consorzio di bonifica sono stati ricevuti dal prefetto dopo la protesta di ieri. Si attende ad esso incontro con il governatore Nello Musumeci, necessario intervenire per trovare una soluzione. Mario Dasta denuncia la condizione precaria e malsana delle case popolari di Viale Europa a Ragusa, muffa e infiltrazioni. Chiesto all'amministrazione comunale un intervento urgente. Stasera al Palaminardi di Ragusa, gara 1 dei quarti di finale tra Passalacqua e San Martino di Lupari. Una gara non certo facile per gli atleti, una sfida importante per proseguire nella competizione. Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Canale 74. Apriamo questa edizione occupandoci della vicenda della scuola De Amicis di Modica. Vigili del fuoco e polizia rassicurano sull'accaduto nessuna esalazione nociva e fuoriuscita dai bagni della scuola. Non si tratta di sostanze nocive. Questo è quanto emerge dai controlli effettuati dai vigili dell'istaccamento di Modica e della polizia del locale commissariato nei bagni della scuola De Amicis di Modica dell'istituto comprensivo Carlo Amore. I vigili del fuoco tramite appositi strumenti hanno appurato la mancanza di sostanze che avrebbero potuto provocare esalazioni pericolose. La scuola è stata comunque evacuata per precauzione. Una telefonata della dirigente ha allarmato i vigili del fuoco del distaccamento di Modica che immediatamente sono giunti in via a Don Minzoni per le esalazioni provenienti dai bagni. Si tratta di odori nauseabondi. I forti odori, peraltro, sono stati coperti da deodorante per ambiente. Dunque è tanto panico, ma fortunatamente nulla di pericoloso. Sono stati inoltre effettuati ispezioni nei pozzetti di ispezione dei bagni della scuola. Dai controlli non è emerso nessun segnale di allarme. Sul posto anche il personale del 118 con un medico che ha controllato la condizione dei ragazzi i quali non hanno avuto problemi respiratori. Una ragazzina invece è stata trasportata in ospedale in quanto accusava forti dolori addominali. Ennesimo furto con spaccata. Questa volta è toccato ad una tabaccheria del centralissimo Corso Vittorio Veneto di Pozzallo. Dopo questo episodio il presidente dell'ASCOM Gianluca Manenti chiede misure per una sicurezza maggiore. Nella scorsa notte un tabacchino nel centralissimo Corso Vittorio Veneto a Pozzallo è stato preso di mira da alcuni malviventi. Il furto è avvenuto intorno alle 5.00 a intervenire sul posto la squadra mobile dei carminieri di Modica. I malviventi hanno spaccato la vetrina dell'esercizio con un'auto e poi hanno rubato qualche confezione di tabacchi e alcuni contanti che si trovavano in cassa. Nulla naturalmente rispetto al danno che invece hanno creato. La stima, solo dei danni materiali infatti, ammonta circa 3-4.000 euro. Un furto dunque con spaccata, con modalità simili a quello già avvenuto qualche giorno fa a Chiaramonte in due esercizi commerciali. In più durante la notte, sempre a Pozzallo, ci sono stati altri tentativi di furto, portati avanti con modalità analoghe. I soggetti sono ancora ricercati. «È indispensabile fare qualcosa», ha dichiarato il presidente cittadino della sezione ASCOM, Giuseppe Cassisi. Ad essi il titolare dell'esercizio, che ha subito il danno, dovrà mettere mano al portafoglio, in un grave momento di crisi, per risanare la questione e provare a ripartire. Il presidente provinciale Manenti ha chiesto la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. Non si tratta più di un fatto isolato, ma sembra la strategia di malviventi che vogliono mettere a ferro e fuoco le attività commerciali di questa provincia. A chi toccherà la prossima volta? Torniamo adesso ad occuparci della vicenda della piattaforma dei rifiuti incontrada a Couturi a Scicli. Si è tenuto un incontro a Palermo. Fra 15 giorni la relazione è conclusiva. Vediamo i dettagli nel servizio. Si è tenuto ieri pomeriggio a Palermo il nuovo incontro di aggiornamento relativo alla vicenda della piattaforma rifiuti incontrada a Couturi a Scicli. Rispetto al precedente confronto, la giunta Giannone ha trasmesso al governo regionale la documentazione relativa alla vicenda autorizzativa della piattaforma per i rifiuti speciali, pericolosi e non a Scicli. Ha presiduto l'incontro il governatore Nello Musumeci. In rappresentanza dell'amministrazione erano presenti l'assessore Viviana Pitrolo e l'assessore Lino Carpino. Hanno partecipato all'incontro anche il circolo Lega Ambiente Scicli Chiafura, il presidente regionale Lega Ambiente Gianfranco Zanna, una rappresentanza del Comitato Salute e Ambiente di Scicli, gli onorevoli Nello Di Pasquale, Stefania Campo, Marco Causerano Concetta Murana e Maurizio Villaggio. La vicenda amministrativa prende l'avvio con la delibera della giunta comunale, la numero 125 del 15 luglio 2014. Non ho difficoltà a dirvi che se dipendesse dalla regione vorremmo 20 impianti di trattamento di rifiuti in Sicilia, se fossero rifiuti urbani e ordinari, ha affermato Musumeci. Rispetto all'impianto in questione ci ha impressionato questa percentuale di rifiuti speciali. La localizzazione purtroppo non è la migliore ed è questo un giudizio politico che posso esprimere anche se ogni disquisizione tecnica compete agli uffici. Ogni territorio ha una sua vocazione economica e l'impianto in questione è collocato nel posto sbagliato. Il governatore ha infatti messo in luce che la struttura in questione disterebbe solo un chilometro e 800 metri da un centro storico che l'UNESCO e la promozione turistica hanno segnato come una tappa fondamentale nell'isola, ma ha anche affermato che se la ditta proponesse alla regione lo stesso impianto in un altro sito, guarderebbe al progetto con un occhio assolutamente benevolo. Per Musumeci questi impianti sono necessari, però necessitano della giusta ubicazione. Per quanto riguarda le scelte attuate dai commissari straordinari del Comune di Scicli, ha ribadito che forse possono aver agito con leggerezza, ma lui li deve difendere perché rappresentano anche loro un regime democratico in una condizione di emergenza. Entro 15 giorni, ha dichiarato Musumeci, Piero Bon presenterà una relazione conclusiva per far sapere quali sono le determinazioni regionali che comunicheremo al nostro unico interlocutore istituzionale, ovvero il sindaco della città. Il prefetto Pina Cocuzza ha incontrato ieri i lavoratori del Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa. Il motivo dell'incontro, le mensilità arretrate che vantano i lavoratori. Per alcune addirittura si arriva a 14 mensilità. Vediamo i dettagli nel servizio. Nella giornata di ieri, una delegazione di lavoratori del Consorzio di Bonifica numero 8 di Ragusa, accompagnata dal segretario generale territoriale Salvatore Terranova, è stata ricevuta su richiesta di quest'ultimo dal prefetto di Ragusa, Pina Cocuzza. L'incontro ha avuto luogo a seguito dello stato di agitazione dei lavoratori e delle manifestazioni di protesta, attuate a causa del mancato pagamento delle numerose mensilità maturate, che ancora oggi non risultano retribuite. Si tratta di lavoratori che fanno parte del gruppo dei 70, il cui rapporto di lavoro è stato convertito a tempo indeterminato, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Catania numero 353 del 2016. Durante l'incontro, i lavoratori hanno chiesto al Governo regionale di venire incontro alle loro necessità, attraverso il pagamento di un concuro anticipo sulle mensilità già maturate. Al fine di poter soddisfare le basilari esigenze familiari. Al termine della riunione, il prefetto ha preso diretti contatti con il Presidente della Regione Siciliana, l'On. Nello Musumeci, che con grande disponibilità li ha convocati a Palermo per valutare la richiesta dei lavoratori del Consorzio e individuare i possibili soluzioni, volte ad attenuare il grave stato di disagio economico che da tempo gli stessi stanno vivendo, ricreando nel contempo un clima di rinnovata fiducia verso le istituzioni. Cambiamo adesso argomento, ci occupiamo del trasporto pubblico, ferroviario, locale e regionale. Chiesto all'assessore regionale un intervento per modificare il contratto per apportare migliorie necessarie al servizio. Il PD di Ragusa ha presentato all'assessore regionale Falcone una proposta di modifica contrattuale del trasporto pubblico ferroviario. Il motivo della modifica è la necessità di adeguare e migliorare l'offerta agli utenti a livello locale e regionale. Per Anthony Barbagallo, parlamentare regionale del PD, il nuovo contratto tra la Regione Siciliana e Trenitalia deve puntare alla realizzazione di un servizio più a misura di pendolare, prevedendo un trasporto efficiente ed efficace senza dimenticare treni storici e sostenibilità ambientale. Per il PD, insomma, grossissimi vantaggi per l'intera regione siciliana. Le modifiche, spiegano in una nota, nascono dalle segnalazioni di utenti e turisti a necessitare di maggiore migliorie ai servizi della provincia di Catania, Grigento, Ragusa e Siracusa. Tra le varie richieste è la modifica dell'orario della tratta a Gela Comiso. L'orario attualmente è in vigore, infatti, costringe gli studenti a chiedere quotidianamente dei permessi per uscire prima dalla scuola per poter arrivare in tempo alla tratta. Situazione simile per i lavoratori pendolari di ricata che lavorano a Ragusa o che utilizzano la tratta a Modica Siracusa. Si è tenuto a Ragusa martedì un incontro formativo rivolto ai titolari delle imprese delle zone artigianali e industriali riguardo il nuovo bando del servizio igienico ambientale. Un incontro molto importante a cui presto ne seguirà un altro. Lo scorso martedì 3 aprile, alla sala conferenza della CNA di Ragusa, Sergio Tumino, ha avuto luogo un seminario informativo rivolto ai titolari delle imprese insediate nelle zone artigianali e industriali. L'incontro ha avuto come tema il bando riguardante il nuovo servizio di igiene ambientale, in cui non è prevista la ricorta differenziata nelle zone in questione. All'incontro erano presenti l'assessore comunale all'ambiente Antonio Zanotto e l'ingegnere Maurizio Catania, in rappresentanza dell'IRSAP. La CNA, invece, era rappresentata dal presidente comunale Santi Tiralosi con il responsabile organizzativo Antonella Caldarera e dal responsabile provinciale ambiente e sicurezza della CNA Giuseppe Brullo. Al momento le imprese raccolgono i rifiuti solidi urbani in sacchi poi conferiti nei normali cassonetti della spazzatura. Con l'attivazione della differenziata ciò non potrà più accadere. Le imprese, così come ha spiegato l'assessore Zanotto, hanno due possibilità. Dal lato procedere all'arcolta dell'indifferenziato e corrispondere al 100% il costo del servizio, mentre attualmente la spazza per le imprese ammonta al 40%. Oppure ci si può affidare ad una ditta privata, sobbaccandosi i costi e quindi le imprese continuerebbero a corrispondere al 40% del servizio. Gli imprenditori, quindi, sono stati informati su quale potrebbe essere lo scenario che si andrebbe a configurare. A breve, hanno dichiarato Tiralosi e Caldarera, si terrà un'altra riunione per stabilire la decisione da prendere assieme a tutte le imprese. Muffa, umidità e infiltrazioni, sono queste le condizioni con cui ogni giorno vivono i residenti delle case popolari di Viale Europa di Ragusa. La denuncia arriva dal capogruppo del PD al Consiglio Comunale Mario D'Asta che chiede all'amministrazione di attivarsi per risolvere la problematica. A Ragusa le case popolari comunali di Viale Europa continuano a fare i conti con umidità, muffa e infiltrazione. Tutto ciò a causa dei mancati interventi, nonostante già da anni, gli inquilini ne hanno fatto segnalazione. Problemi che si sono amplificati quest'anno con la stagione invernale particolarmente piovosa che, certo, non ha aiutato le strutture a salvaguardarsi. A denunciare il capogruppo del PD al Consiglio Comunale Mario D'Asta dopo aver ricevuto dagli assegnatari delle case popolari una serie di foto che mostrano il degrado delle strutture. Per D'Asta sembra che l'amministrazione continui a fare finta di niente sulle spalle di chi ha denunciato e non ha ottenuto nessuna risposta. Le stesse persone che sono costrette ogni giorno a dover vivere tra muffa, umidità ed infiltrazione. In una sola parola, in uno stato di invivibilità. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci che i residenti sono famiglie con bambine e che non hanno possibilità economiche a fare interventi personalmente. Dopo l'ennesima denuncia, il capogruppo del PD e soprattutto gli inquilini delle case popolari di Via L'Europa auspicano che la questione possa essere sanata nei tempi dovuti. Grande attesa a Ragusa per la tanto attesa scinnuta di San Giorgio che si terrà a Ragusa Ibla, il servizio di Lucia Nativo. A Ragusa Ibla, domenica 8 aprile, prenderanno ufficialmente il via i festeggiamenti patronali in onore di San Giorgio. Da oltre 1500 anni, da quando cioè il culto si è diffuso nella città di Ragusa, i fedeli torneranno ad onorare e celebrare il martire. La Santa Messa sarà alle ore 19 e successivamente, sempre all'interno del Duomo, sarà perpetuato un rito di grande suggestione, la traslazione del simulacro del Santo della Nicchia in cui viene ospitato tutto l'anno, sino all'abis di accanto all'altare, dove rimarrà per tutto il periodo dei festeggiamenti. La traslazione sarà effettuata anche per l'Arca Santa. Come sempre, i fedeli accoglieranno questo singolare momento, ovvero quello della scinnuta, con grida di giubilo, per manifestare la propria devozione nei confronti del glorioso padrono di Ragusa. Tra le navate, dunque, i primi momenti di festa, mentre la caratteristica abballariata renderà il rito ancora più coinvolgente. Il tutto sarà accompagnato dal suono dell'organo maximum e dalla campana grande della Chiesa Madre. Sarà un modo per dare il primo abbraccio al simulacro del Santo. Quest'anno ricorre il 375esimo anniversario da quando il martire è stato insignito nel titolo di padrono della città di Ragusa. Tutto ciò in preparazione della festa esterna, che nel 2018 si terrà il 25, il 26 e il 27 maggio. Concludiamo quest'edizione occupandoci di sport, in particolare di basket. Stasera la gara 1 dei quarti di finale tra Passalacqua e San Martino di Lupari. Vediamo i dettagli nel servizio. Stasera si disputerà alle ore 20.30 per gara 1 dei quarti di finale la competizione tra la Passalacqua Ragusa di basket e il San Martino di Lupari. Seli ha il meglio delle tre partite che vedrà la replica a campi impartiti mercoledì 11 aprile alle 19, mentre l'eventuale bella si giocherà al Palaminardi di Ragusa sabato 14 aprile. Stasera il quarto di finale al Palaminardi di Ragusa con San Martino di Lupari si presenta come una sfida tutt'altro che semplice da affrontare, anzi si annuncia complicata e piena di insidie. Una bella sfida insomma per la squadra che deve essere pronta a tutto. In campionato ognuna delle due formazioni si è imposta in casa e tutto l'ambiente bianco-verde deve farsi trovare pronto. Una partita estremamente importante per il destino della serie. Per Ragusa sarà dunque di fondamentale importanza partire bene col piede giusto per mettere subito il primo mattoncino che dovrà servire per andare avanti nella competizione. Per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo il nostro sito www.canale74.it e vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.